lascia adesso il centro e poi fa girare sta palla invece davanti due suoi compagni mi sono spogliato per il gol di Big Rom speriamo che il centro Big Rom finalmente si era visto nettamente migliorato Big Rom e io ho giocato, non so se si vede il momento migliore del Brescia arriva il grattaccio dell'Inter con Romelu Lukaku che poi va a abbracciare la doppietta di Lukaku che sofferenza massima pressione del Brescia gol di Lukaku che oggi ha fatto un gol pesantissimo dal punto di vista motivazionale dal punto di vista del risultato avrebbe sarebbero andati a pareggiare iscrivetevi al canale attivate la campanella e salutate vostra sorella bravi ciao ci sentiamo per fine partita Big Rom adesso Conte sta riuscendo ai suoi adesso calma